A. Come Ance Pordenone. Lui è presidente dal 2005 ed è anche vicepresidente dell'Ance del Friuli Venezia Giulia. B. Come Basket Cordovado, che è nel girone di eccellenza e lui è presidente. C. Cassa Edile Pordenone. È stato presidente dal 1993 al 2003. D. Dietro ogni insidia c'è un'opportunità. È il suo detto preferito. E. Engineering Pontarolo. Fondata nel 1995 con Andrea, suo fratello. F. Friuli Innovazione, il premio che ha vinto nel 2007 con il presidente della giuria Isaac Jez, che è un guru mondiale dell'innovazione. G. Come Giovani Imprenditori di Confindustria, a cui è aderito dal 1981 al 1997. H. Come Hobbys. Equitazione, aliante, parapendio. Si è rotto due braccia. Fuoristrada. I. Come Incendio. Il 18 settembre dell'anno scorso è preso fuoco la fabbrica. Lui era in Abruzzo per una gara che avevamo insieme per la ricostruzione dell'Abruzzo. Era tranquillo. Dice sì, torno domani. Ma sta bruciando la fabbrica. Vabbè, tanto, voglio dire, non la spengo. Sto qua. Domani torno. K. Kenya. Si è sposato lì a Dol Dol con Donatella. Presso la missione di un amico sacerdote. Quando è arrivato è venuta la pioggia. Non volevano più lasciarlo andare perché era a dieci anni che non pioveva. Pensavano che avesse virtù divinatoria. È scappato di notte. L. Come l'In Manufacturing. È la filosofia della fabbrica nuova che sta per inaugurare, anzi, che ha già inaugurato, ma sta per mettere in produzione a San Vito. M. Mangia velocissimo. Specialmente i dolci al cucchiaio. E della sua velocità è la stessa che mangia anche nella vita. N. New York. Ha avuto una laurea onoris causa in ingegneria civile nel 94, proprio a New York. O. 81. È l'anno in cui è mancato prematuramente suo padre Giorgio. Lui aveva 25 anni. P. Posa del primo bullone. Il 29 maggio 2010, alla presenza di tondo e mezza politica del Friuli Venezia Giulia. Q. Quattro brevetti internazionali solo per il clima bloc. Poi lui vi spiegherà che cos'è. R. Rotary Club di San Vito. Pass President e socio da sempre. S. Studi. Malignani nel 77. Laurea in ingegneria civile nel 2007. T. Tecnologie innanzitutto. La prima agenda elettronica, il primo iPad, il primo iPod, la prima e-mail. Lui ha avuto sempre prima qualsiasi cosa che venisse fuori. La sua era sempre la prima. La mia l'ultima. U. Un'industria a Pordenone. È vicepresidente. V. Valentina e Luca. I suoi figli. V. W. Windy. La sua barca a vela. La sua passione per le regate. E anche Wind, che è una strumentazione che ha creato lui un regolo, una cosa che non ho ancora capito come funzioni, ma serve perché così, quando sai da dove viene il vento, sai che vela aprile. Insomma, è una cosa che ha fatto lui e l'ha messa anche in una ghiera di un orologio. Z. Zodiaco. Segno del Sagittario. Nato a dicembre del 55. Segni distintivi. Leale. Generoso. Energico. Combattivo. Spiccato senso dell'umorismo. Immaginazione viva, ma non sognatore. Vi ho presentato Valerio Pontarolo con 23 lettere. Grazie. Sì, Massimo. Uno potrebbe anche sentirsi imbarazzato un attimino. Comunque sono del capricorno. Rompibale di natura, in ogni caso è molto... Allora, sono qua per parlare di brevetti. Se conviene all'azienda, conviene per l'internazionalizzazione. È una bella domanda, anche perché guardando i numeri nel bilancio, i brevetti costano. Prima l'ingegner Giugni ha fatto vedere in una slide quello che potrebbe essere un costo. Quando cominci a averne un certo numero, la voce di bilancio incide. E incide parecchio. E incide parecchio.